Il ritorno ad Anacapri ha una ragione ben precisa. L'aggettivo caprese è sinonimo di un certo tipo di eleganza. Come ha potuto un'isola abitata da pescatori e contadini diventare icona di stile nel mondo? La persona più giusta a cui chiederlo è lo stilista che conduceva il grande fratello dell'isola. Quindi mi siedo qua? Anacapri ha sempre fatto tendenza, ha sempre fatto moda. Le grandi principesse, ma anche la famosa Jackie Kennedy, insomma, quando arrivava qui si faceva fare i sandaletti capresi, i pantaloni capri. Venivano paparazzati, venivano poi fotografati qui a Capri e lo stile capri si è diffuso così in tutto il mondo. Ma i capresi si vestivano così pure prima dell'arrivo del turismo? No, no, no. Prima dell'arrivo del turismo erano molto semplici. Una volta l'isolano non era abituato ad accomodarsi, per esempio, in piazzetta, ma la piazzetta di Capri era appannaggio solamente di persone, di turisti, che avevano anche un certo quantitativo di soldi da poter spendere.